Ciao a tutti, sono Luna Mascetti, su Instagram e su Facebook mi trovate con Io mi chiamerei. Sono di Latina e sono nata e cresciuta qui, ho 33 anni e sono affittrice di frasi sull'amore. Il libro in formato cartaceo che trovate anche presso la biblioteca Don Peppino Ragna è questo esercizio di effaticamento per cuore stanchi. È disponibile anche in libreria e sull'e-commerce Mauro Online. Il libro è composto da frasi e disegni. I disegni sono stati realizzati da Chiara Romagnoli. Oltre a questo libro, che è molto carino, è un libro che si può regalare alla persona del cuore, che può essere sia un amico, un'amica, un fidanzato, la mamma, insomma, sono tutte quante idee di piede d'amore, ho scritto anche Il Decalogo dei Casi Umani, che è una dozzina di pagine spiritose sui casi umani. E con un testo finale, Scopri se il tuo libro è un caso umano, disponibile soltanto in formato ebook su Amazon. E ogni giorno ci dirò che un romanzo d'amore è ambientato presso il cammino di Santiago, sempre disponibile soltanto in formato ebook tramite Amazon. Ringrazio ancora la biblioteca Don Peppino Lagna per aver ospitato, per ospitare il mio libro presso i suoi scaffali. Saluto tutti e tutti e tutti quanti i lettori della biblioteca e spero che leggete tutti quanti il mio libro e che mi facciate sapere se vi è piaciuto o no. Grazie, Luna! Ciao! Ciao! Scansione il codice QR che ti porterà direttamente sul nostro sito web www.bibliotecalagna.it Qui puoi trovare la raccolta della rubrica Ti racconto un libro e tutte le nostre recensioni dei libri degli autori che hanno deciso di collaborare con noi. Inoltre puoi iscriverti alla nostra newsletter per essere sempre informato su ciò che pubblichiamo sul sito.